Dramma nel pomeriggio a Enego, nella piana di Marcesina. Un escursionista ha perso la vita a causa di un malore improvviso che ha colto l'uomo a circa 300 metri dal rifugio Marcesina. Immediatamente soccorso dai presenti, che hanno tentato di rianimarlo, per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dell'elisoccorso di Treviso l'uomo era già privo di vita. Il medico del SUEM non ha potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto con ogni probabilità a causa di un arresto cardiaco.